Ci ha dato l'esempio e l'esempio di come si sopportano le persecuzioni Diego grazie di essere qua come al solito del coraggio che ci dai e dell'esempio che ci dai e di quello che ci hai dato e ci hai donato sempre la tua dolcezza, il tuo modo bello di ribellarsi così come un volo, come un fiore grazie perché sei una cosa grande ecco, ecco i nostri combattenti in congedo ecco i nostri combattenti in congedo bravi ecco da dove veniamo bravi bravi, siete l'orgoglio grazie, grazie di voi siete voi le nostre radici e noi siamo fieri e orgogliosi di voi non vi consideriamo qualcosa di estraneo ovviamente grazie grazie